I ragazzi potranno avere la possibilità in via virtuale sulla piattaforma Zoom di entrare all'interno di sei aziende che fanno parte dei vari gruppi merceologici del nostro territorio di Varese. In queste dirette avranno la possibilità di vedere quelle che sono le fasi della produzione all'interno delle aziende, di vedere i laboratori, quindi i centri di ricerca, di sentire le interviste sia agli imprenditori ma anche ai collaboratori che operano nelle aziende, in modo tale che la nostra volontà è quella di incuriosire le ragazze e i ragazzi di terza media, incuriosirli, emozionarli per fare in modo che poi possano fare le scelte per la scuola dell'obbligo già con un qualcosa che gli piace. Una collaborazione molto importante, appunto giusta alla quattordicesima edizione insieme a tante altre iniziative che abbiamo nel tempo svolto con Univa e oggi Confindustria. È un momento anche molto delicato per le famiglie e gli studenti, è un momento dell'orientamento, della scelta dell'indirizzo della scuola superiore e quindi anche avere questa possibilità di incontrare le aziende, verificare come le competenze tecniche e relazionali vengono messe in gioco dentro le aziende del nostro territorio. Servirà sicuramente a fare una scelta più libera rispetto all'orientamento verso la scuola superiore.